musica bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il nostro Circo Venezia signori miei, episodio numero 94 se non sbaglio abbiamo la partita di Coppa contro il Sassuolo però prima cosa che dobbiamo andare a fare dobbiamo andare a vedere un attimino le mail il Gautier ha stato venduto, ok me lo ricordavo 4000 giocatori ovvero Deann grazie che potete andare a giocare in prestito e mi farà bene siamo d'accordo Dorenzal vuole andare a giocare in prestito, siamo d'accordo Matarrese è pure contento che va in prestito Collins, grazie di avermi dato ascolto e avermi mandato in campo prestazione autorevole, Collins non si tocca signori miei Collins non si tocca allora andiamo avanti partita di Coppa Italia contro il Sassuolo Coppa Italia raga, io direi di far giocare i panchinari per forza, così diamo un attimino di turnover a tutti quanti la Coppa Italia è un nostro obiettivo, attenzione, offerta per Jesus Benitez di 28 milioni no, mi dispiace, Benitez non si tocca, rifiutiamo l'offerta Benitez, lo stiamo facendo crescere noi e noi ce lo teniamo Benitez, è un mio panchinaro di lusso Benitez raga non lo posso vendere così facilmente al cuor leggero al cuor leggero allora, altre due mail offerta per il trasferimento per Diego Abeledo, il nostro Abe 6 milioni e cento il nostro Abe che squadra lo vuole? il Fenerba c'è porca miseria, è bravo Abe è bravo Abe 6 milioni e cento per Abe no, neanche lui veniamo raga rifiutiamo l'offerta no, 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 no non me la sento di privarmi dei miei migliori raga è più forte di me Castagna vuole giocare Castagna giocherà Castagna giocherà perché andiamo a sistemare la formazione raga e mettiamo dentro i nostri carissimi panchinari allora, Isaac qui mettiamo il nostro pezzo legno Wood sulla sinistra giocherà Castagna sulla destra giocherà Benny Benitez a centrocampo avremo Ambarabacicicocco e il nostro Abe che non si deve nascondere il nostro Abe poi abbiamo sulla destra avremo Laird a centro avremo il piccolo Cumbulla e il carissimo Ampadu pensaci tu e sulla sinistra Becker in porta ragazzoli io do nuovamente fiducia a Padelli sì, non c'ho che far raga non c'ho che far diamo fiducia a Padelli e va bene così la panchina va pure bene abbiamo i nostri migliori quindi non perdiamo altro tempo in chiacchiere e andiamo in campo belli miei ok signori miei ci siamo, ci siamo Venezia Sassuolo a Pierluigi Penso calcio d'inizio per noi calcio d'inizio per noi non dobbiamo sfigurare raga perché il triplete ricordiamoci che passa anche dalla Coppa Italia ricordiamoci che il triplete passa anche dalla Coppa Italia quindi non dobbiamo semplicemente avere gli occhi e la concentrazione su Scudetto e Champions ma la concentrazione deve stare anche sulla Coppa Italia che se non sbaglio non l'abbiamo mai vinta no, forse una volta l'abbiamo vinta il primo anno forse quando eravamo in Serie B abbiamo vinto la Coppa Italia che ci ha dato la qualificazione all'Europa League è vero, è vero è vero, è vero, è vero sì, una volta l'abbiamo vinta una volta l'abbiamo vinta guardalo, guardalo gran palla Benny Benitez Benny Benitez distruggilo Ben... nooo mi è rimasto l'urlo in gola raga mi è rimasto l'urlo in gola mamma mia cosa aveva fatto Benny Benitez porca miseria ottimazione, ottimazione il Venezia C'è il Venezia C'è ha battuto già subito un squillo con Benny Benitez bravissimo Benny bravissimo Benny da conferma dell'ottima idea di non venderlo raga da conferma dell'ottima idea di non venderlo ora però non facciamo cretinata a centrocampo ambarvacci ciccocco ambarvacci ciccocco dai così recuperiamo con calma il pallone recuperiamo con calma il pallone bravo Benny Benitez che si fa trovare sempre pronto ma anche pronto a sbagliare passaggi facili mannaggia a te Benny non fare falli stupidi frustrazione dai 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 recuperiamo sta palla recuperiamo sta palla raga non facciamoci fare il torero dal sassuolo porca miseria io vi mando a zappare la terra esci Padelli 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 dove vai Padelli mio dove vai Padelli mio mamma mia mamma mia sassuolo in vantaggio raga errore mio errore mio ho fatto uscire Padelli errore mio che ho fatto uscire Padelli raga ma non puoi prendere un gol così dai chi ha segnato Berardi no sobrino penso fosse Berardi sembrava Berardi partita in salita raga partita in salita come contro il Napoli come contro il Napoli come contro il Napoli dobbiamo semplicemente fare due gol dobbiamo semplicemente fare due gol e abbiamo i giocatori per poterli fare grande ancora Benny Benitez ancora Benny Benitez ancora Benny Benitez Benny tirala però che cavolo e che cavolo Benny mio tirala e porca miseria mamma mia c'è la palla incollata al piede Ambarabacicicocco si fa anticipare Ambarabacicicocco si fa anticipare e il sassuolo riesce a ripartire bene perfetto perfetto Cabral 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 riesce a anticiparlo? no non riesce a anticiparlo Laird riesce a fare qualcosa di meglio tu zio si riesce a farti dribblare ancora meglio ottimo metti a terra sta palla e dai che cavolo e quanto ci stai a mettere a terra un pallone a passarlo mamma mia che hanno fatto festa i miei ieri sera che sono così rincretiniti ma che cavolo veramente cioè Padelli due partite due gol cioè impressionante impressionante due partite gli ho dato due volte fiducia il nostro il nostro talismano Padelli scende in campo e ci fa fa queste figure dai 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 bene bene dai bene guarda Isaac che si inserisce bene guarda Isaac che si inserisce bene dai che cavolo non ci siamo non ci siamo non ci siamo non ci siamo siamo poco concentrati siamo poco concentrati E non va assolutamente bene Dai 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 Ambarbacicicocco Ambarbacicicocco E recupera sta palla Mannaggia di una miseria Mamma mia Li state a far passare sul tappeto rosso a questi Dai Benitez Dai Benitez Dai Benitez Dai Benitez Fermati Fermati che sei lento Va bene così Va bene così Guardalo lì Dai è così Dai che non è fuori gioco Stavo guardando avanti Dove era Isaac Stavo guardando dove era Isaac Mi sono fatto fregare Cabral 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 L'Aird non riesce a tenere L'Aird non riesce a tenere L'Aird va a funghi l'Aird Cabral 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 Mamma mia Sta solo vicino al 2-0 raga Sta solo vicino al 2-0 al 35esimo Sono andati più vicini loro al gol Che noi al pareggio Sono andati più vicini loro al raddoppio Che noi al pareggio Questa cosa non mi fa star per niente tranquilla Dambarabacci ciccocco dai Ma che cavolo di errori facciamo raga Mamma mia Errori stupidi In cui perdiamo la palla in maniera stupida Cioè era Wood che era scattato Era Wood che era scattato Non era Benitez che era scattato Era Wood che era scattato Ci sono un po' di incomprensioni in campo raga Un po' di incomprensioni Guardalo 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 Devo stare tranquillo Perché se mi agito È peggio Se mi agito È peggio Se mi agito Perdo il nome della concentrazione Ed è peggio Isaac subito Madonna mia Di quanto l'abbiamo sbagliata raga Doveva essere un pelo Di un pelo L'ha sbagliata Isaac Al 42esimo Il Venezia batte il secondo colpo Il Venezia batte il secondo colpo E fa Vedere che c'è Il Venezia c'è Il Venezia c'è Ma il risultato è sempre a favore Del Sassuolo Signori miei Dobbiamo stare attenti Che cos'è L'Aird Mettila a terra Stavalla Sì Chiedi scusa Ma chi è che chiedi scusa Che ti manderei Veramente Panchina Chi mi ha fatto fare A me di mettersi in campo Cabral è una spina sul fianco Comunque raga Cabral è una spina sul fianco Porca miseria No 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 Cioè il Sassuolo ci sta prendendo Appallonate seriamente Dai Isaac E dai non mi puoi fischiare La fine del primo tempo Ora Noi siamo un attimino Perché dobbiamo essere Congenziati Io forse ho sbagliato a mettere Vabbè sì Sto parlando a bambera E dobbiamo pensare solamente A recuperare Non pensare a chi è in campo A chi è in panchina Dobbiamo semplicemente Pensare a recuperare Il risultato raga Perché se falliamo Questa partita Il sogno triplete Se ne va in fumo Cioè il sogno triplete Svanisce in un colpo solo Svanisce in un colpo solo Il sogno triplete Raga Se falliamo questa partita Perché ricordiamo Che la Coppa Italia È l'obiettivo Del triplete Dai 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 bello così Vai castagna Vai castagna Che sei veloce Vai castagna Che sei veloce Come fa Quella di essere più veloce Di te Bello così Bello così Nooo Ma dai Ma come mi ha anticipato Dai 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 Mettila a terra Mettila a terra Sei chiuso Sei chiuso ma lo vedi Bello il movimento Bello il movimento Vai castagna Dai che cazzarola fai Castagna Tu non li sbagliavi Sti tiri Porca miseria Non li sbagliavi Sti tiri Castagna mia Castagna mia Non li sbagliavi Questi tiri Quando poi uno dice Che è destino Quando dice Un gioco Gioca contro E poi uno dice Non è vero Non è vero Che gioca contro Gioca contro Potevamo fare un rigore Bellissimo Potevamo fare un rigore Bellissimo Wood Wood Mettilo Bello Nooo L'ho vista dentro L'ho vista dentro Dai ma quanto stiamo Sbagliando raga Ma quanto stiamo Sbagliando Potevamo fare un rigore È calcio d'angolo pure Non ci credo Palla per Ambarovacicicocco Ambarovacicicocco Che il Tente Il pallone fuori Palla Pareggio 1 a 1 Non ci ho capito niente raga Rimpallo su rimpallo Beni bene Tetz Andiamo raga Andiamo raga Andiamo raga Andiamo raga 1 a 1 Il sogno triplete continua Il sogno triplete continua Non so Cosa sia successo raga Va bene Va bene così L'importante è che l'abbiamo rimessa Sui binari giusti 1 a 1 Palla al centro Prendere e andare Prendere e andare 1 a 1 Siamo al 57esimo Io do ancora fiducia Ai miei panchinari raga Do fiducia ai miei panchinari Non posso Subito Andare a correre Per Alla ricerca Dei miei bomber Devo dare fiducia Ai miei panchinari Dai 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 Io credo in loro Io credo in loro Cabral Questo cabral è da tenere sotto d'occhio Per l'anno prossimo Raga Questo cabral è da tenere sotto d'occhio Per l'anno prossimo Perché è una spina nel fianco Pavorosa Ampa Tu pensaci tu Meno male che ci pensa lui Il nostro Abe Il nostro Abe Con calma Con calma Con calma Con calma Circo Venezia Con calma zio Guardalo Guardalo Vai Bravo Isaac Guardalo Guardalo Castagna 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 Non ci posso credere Era gol fatto Era gol fatto 63 No Castagna Si è giocato l'occasione Castagna Non mi puoi sbagliare questi gol Non mi puoi assolutamente sbagliare questi gol Dentro Neymar Fuori Wood Dentro Dell'Orco E mi fermi così Se all'ottantesimo Non riusciamo a risolverla Mandiamo dentro Mandiamo dentro El Mapa Mbappé Mandiamo dentro il nostro Toro Signori miei Non ci posso credere Isaac Gli do altri 10 minuti di tempo Gli do altri 10 minuti di tempo Perché ci credo in Isaac Raga Isaac Isaac Ci credo Però deve 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 darmi Deve darmi Deve rispondere alla fiducia Che gli sto dando Deve rispondere alla fiducia Che gli sto dando Ho dato anche fiducia Dell'Orco Raga Al nostro Shrek Ho dato anche fiducia Al nostro Shrek Dell'Orco Fate entrare al posto Di uno spento Wood Va bene Bravo Mbappé Ciccocco Bravo Mbappé Ciccocco Sassuolo Cerca di spingere Shrek in copertura Dai Venezia cerca di recuperare palla Ci riesce bene Con Mbappé Ciccocco Che vede Isaac Che si ferma Isaac 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 Non sa chiedarla Vede Neymar Vede Neymar Che con un gran palla Vede Benitez Benitez Se ne va Benitez 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 Vede Isaac Newton Grande azione del Benitez Signori miei Neymar Di fino Per Benitez Che si invola Entra in aria La passa Isaac Newton Che non sbaglia Isaac Newton Non sbaglia Signori miei Grande Isaac Bella così Grande Isaac Grande Isaac Primo gol in coppa Grande Isaac Dai così L'abbiamo ribaltata L'abbiamo ribaltata Mamma mia sofferenza Crederci sempre L'entrata di Neymar Se non è stata molto importante Perché veramente Un gran bel passaggio Quello di Neymar Settantatresimo Settantatresimo Dai così Dai così Dai così Dai 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 Non facciamo credinata adesso Raga Abbiamo fatto tanto per Rimetterela sui binari Giusti Cortesemente Non facciamo credinate Adesso Cabral Cabral è presicolosissimo Ampadu pensaci tu Per il nostro Abe Che ha fatto un lavoro sporco Si è visto poco Ma ha fatto un gran lavoro sporco Amrapa Ciccocco Per dell'orco Dell'orco Per Neymar Neymar Aspetta il momento di Baker Che arriva E lo lancia Baker sulla faccia sinistra Il Venezia la vuole chiudere Il Venezia la vuole chiudere Il Venezia la vuole chiudere No Settantatresimo Benny Benitez Non trova il 3 a 1 Non trova il 3 a 1 E non trova la doppietta personale Mannaggia Di poco Di poco Va bene così Va bene così Dai 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 con calma Dai con calma Da lamentarsi Dell'orco Protezione Subdumnesi Mamma mia Che cosa brutta Mamma Mamma mia Cosa abbiamo rischiato Raga Cosa abbiamo rischiato Padelli Completamente spiazzato Io in ritardo Qualsiasi cosa Padelli Meno male Che hanno i piedi storti Mamma mia Ne sono reso conto Che ho fatto la cavallata Quando ho ammaccato Dopo che ho ammaccato Il pulsante Per il passaggio Però oramai Era troppo tardi Allora Neymar 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 Dell'orco 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 Per Isaac Newton 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 Con calma giocarella Giocarella per Ambarabacicicocco Isaac Newton Per Neymar 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 Vede il movimento Di Isaac Newton Che di testa Prova a staccare Benny Benito No Shaq Shaq Abe Niente Serie di batti e ribatti Il Venezia recupera però la palla Che viene aperta lì Per Benny Benitez Che vede Isaac Che vede il movimento Di Del Shaq Dell'orco Che all'ottantanovesimo C'entra il portiere Rinvia ancora del Sassuolo Che non vuole demordere Shaq Dell'orco Per Isaac Che la metà a terra Ancora dell'orco Ancora il nostro Shaq Che vede il movimento Di Neymar Che a limitare Riesce a crossarla Isaac Che gol Paoroso Signori miei 3 a 1 Del Venezia Nei minuti di recupero Incredibile Che gol Paoroso Amici miei Paoroso Neymar Ci arriva sul limite A crossare questa palla E Isaac Newton Al volo di sinistro La chiude Bellissimo Bellissimo Amici miei Bellissimo Fantastico La palla addirittura Esce fuori Guardate il risorriso Soddisfatto di Isaac Che trova la sua doppietta Secondo gol in Coppa Italia Grande Isaac Newton 3 a 1 Prendi a porta a casa Turno passato Per il Venezia E il sogno triplete Che continua Il sogno triplete Che continua Andata così Andata così Bella raga Bella raga Bella 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 3 a 1 Pulito Pulito Niente da dire Turno superato Andiamo a farci le nostre interviste Raga Andiamo a farci le nostre interviste Cabral Ricordiamoci questo nome Cabral Che secondo me Sarà molto importante La Juventus Appareggiata al novantesimo Questa è una cosa buona Questa è una cosa buona Per dire che la Juventus Si stanca Il prossimo turno Di Coppa Italia E il prossimo turno Di campionato Potremmo riuscire A guadagnare Qualche punto Sulla Juventus Quindi dovrebbe essere Più stanca di noi Allora Facciamo le nostre Bellissime interviste Come al solito Che saranno sempre Le solite domande Sono felice Per la prestazione Isak Una prestazione Isak È stato straordinario Esaltiamolo Esaltiamolo Si non dovrebbe lamentarsi Il punteggio è troppo severo Avremmo dovuto vincere Con più gol Dobbiamo pensare Alla prossima partita Era l'ultima domanda Grazie ancora Diplomatica Allora Quattro mail Quattro mail Andiamo a leggere Queste mail Signori miei Partita spostata Partita spostata Ok Shrek che è l'orco Mister anche se non sono Il primo della sua mappa Ritengo che dovrei avere Più spazio Dimostrami che lo meriti Grazie per il mio concesso Mi sento molto meglio A prezzo e tue impegno Non so perché Mbappé ringrazia Per aver giocato Quando non ha giocato Proprio questa partita Di Coppa Italia Va bene ragazzoli Detto questo Vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Che ho dato a questa serie Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per qualche altro episodio Bella raga Ciao